Vabbè, 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 salutare? Ciao! Io non conosco questo Twitch, potete spiegarmi che cos'è? Ah, posso? Twitch è una certa forma dove si fanno live di ogni tipo, facciamo live dove andiamo in giro e cerchiamo di rimorchiare ragazze belle. Sul telefono? Cioè, adesso noi siamo qua ma tu mi sei proprio a un po' caso, per i mochi. Eh, lo so, però... Lo stai rimorchiando un cazzo, lo stai rimorchiando qua. No, però c'è un orario che ora è... Va direttamente al sudo, capito? Lo metto a notte 10, io rimorco dopo le mezzanotte e mezza. Ah, ok, ok. Anche perché non sono più facile. Ah, ok. Vediamo un po' che cosa scrivono, se no poi ci regaliamo. Cosa scrivono? Senna l'altra. L'approccio dell'amore? Ma zitta, ma che ti pega? Ma sono tutti degli haters? Ma no, ma... No, 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 no. Quello era più facile. Quello, ridiniamo. Quello, ridiniamo. Marilu, sei una bellissima donna. Non mi sento a pensare che dobbiamo andare a una festa super privata. Dove ci giugiranno i 2.000 persone al secondo. Dove dobbiamo scappare? Ragazzi, vi ringrazio comunque anche se mi avete trattato male, però vi ringrazio. Il teo. Neanche te. Perché devo trattare? Ci vediamo domani, Marilu. Ci vediamo al calcetto. Al calcetto? Noi vi salutiamo. Noi vi salutiamo. Noi Antonio, Antonio. Ciao Antonio, grazie per la disponibilità. Allora, grazie, 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 grazie. Allora, grazie, grazie. Allora, grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Procedi verso l'itinerario Che cazzo, l'itinerario non mi dice un cazzo Ma sei scema No, no, proprio, proprio, non girare Vai a sinistra Ma qui c'è la strada? Sì, ma c'è la strada chiusa Ok Sinistra per Cormagliano? No, andiamo a Cormagliano adesso No, però, ma siamo di nuovo qua Gira a destra Quindi gira leggermente a destra Soccorso Venezia No, siamo a veramente cinque minuti Tirati di me Giuro Giuro, non è quella la vera strada Gira qua subito a destra Oh, 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 minchia Sì L'abbiamo fatta, bro L'abbiamo fatta Adesso andessimo fare un po' di Minecraft Dritto, bro No, per cui ti ho fatto il dottore Ora io te lo sono finito Gira a sinistra Su via Cino del Duca No No Siamo in un giro pesca Come lo chiamano mio padre Tra 450 metri Gira a destra Su via Gabriel Serbelloni Posso segnalarti, bro Posso segnalarti Perché bro Stavo passando una serata da Dio Io vorrei segnalarti Perché mi hai fregato Siamo qua perché abbiamo sbagliato strada Ma non è colpa di nessuno Fa colpa tua, bro Un po' è colpa mia, sì Vabbè, ma non... Giuro Non è quella la vera strada Gira qua sui da destra Chi è che di me? Sono vicino ad una tenda Ah Il duca era da lì? Ragazzi, dopo questo piccolo podcast Sulla Ginecomaschia Sulla Ginecomaschia Vi salutiamo con questa piccola immagine di copertina Adesso inizia la vera serata Ciao Belloni Ciao Belloni Ciao Belloni Ciao Belloni